Ciao, sono il Minimizer Miltek. In qualità di specialista nella gestione e nel riciclo dei tuoi rifiuti, ti mostrerò come ridurre il tempo, lo spazio ed il denaro che getti via con i rifiuti. In Miltek abbiamo anni ed anni di esperienza nell'aiutare a guidare le aziende verso un continuo miglioramento della gestione dei loro rifiuti e dei processi di riciclo. Analizziamo tutti gli aspetti del tuo business. I tuoi costi, la tua igiene e la tua efficienza produttiva, con lo scopo di mostrarti come puoi generare dei guadagni dai rifiuti riciclati. Il prospetto finale indicherà esattamente i risparmi della tua azienda e gli ampi benefici che potrai avere negli anni a venire. La gamma di compattatori e presse Miltek gestisce qualsiasi forma di rifiuto, incluso il cartone, la plastica, il polistirene ed il rifiuto misto, per assicurarti una soluzione su misura che corrisponda perfettamente alle tue richieste. Ma soprattutto aiuti l'ambiente tramite una corretta e più responsabile gestione dei tuoi rifiuti. È per questo che diciamo che blu è verde, perché per noi l'ambiente è la cosa più importante. Contatta Miltek per organizzare il tuo sopralluogo gratuito oggi stesso. Miltek. Riduci i tuoi rifiuti.